ricordiamo che sono in 10 al via dopo il ritiro di codice d'onore ci siamo si aprono le gabbie partiti i cavalli del premio brigadier geran edizione 2022 abbiamo subito l'aspetto tattico della competizione parte bene frozen day che si porta subito a condurre dal centro della pista all'interno ha colto una buona partenza anche watch my tail che velocemente rileva proprio frozen day in terza posizione troviamo black and fun che lascia poi in quarta posizione no vacancy riconoscibile dai bracciali gialli sulla giuba blu e arancio in quinta posizione troviamo wonka willy nei confronti poi di di lido a cui fianchi gravita proprio il grande favorito tempesti dietro a questi ci sono arc on fire poi soligo che lascia in coda lord liberty si procede così con sempre in vantaggio watch my tail ai suoi fianchi c'è sempre frozen day in terza posizione all'interno black and fun in quarta per corsie esterne c'è no vacancy a precedere wonka willy poi tempesti che in questo momento in sesta posizione a precedere di lido alle cui spalle c'è arc on fire poi l'altra coppia di coda è formata da soligo all'interno di lord liberty siamo all'ingresso indirittura d'arrivo si comincia a far sul serio con ancora in vantaggio watch my tail che prova ad allungare gli mette pressione frozen day per corsie più esterne si fa sotto anche no vacancy dietro a questi ci sono wonka willy che gravita per corsie interne poi black and fun si avvicina con fare minaccioso il favorito tempesti in seguito anche da arc on fire che al suo interno ha di lido ancora più all'esterno c'è lord liberty quando siamo a 400 al traguardo tempesti non è ancora chiamato a maggiore impegno lo fa in questo momento con uno scatto si porta in evidenza quando mancano ancora 200 metri al traguardo nemmeno richiesto tempesti è già padrone assoluto della competizione opla è così che si va verso il derby vince facile il favorito tempesti nei confronti di lido per il terzo posto frozen day senza nemmeno essere richiesto terza vittoria consecutivo consecutiva per tempesti ricordiamo figlio di albert doc che dopo le due impressionanti performance a due anni si presenta in questo modo come lo vedete a tre anni sulla strada verso il derby e questa veramente è una bella impressione silvano mulas in sella il training è quello di riccardo santini i colori quelli nobili tradizionali spettacolari della razza dormello olgiata 9 al primo posto vediamo ancora il secondo è andato a dilido per il terzo numero 5 frozen day da capannelle per la terza corsa è tutto negli occhi abbiamo ancora la vittoria di tempesti 9 al primo lo ricordiamo 4 al secondo e 5 al terzo 945 dal punto di vista numerico è l'ordine d'arrivo del premio brigadier gerà è tutto meanti colori che hacemos con di vomiting per aver dato bruciato quantitammenti worka mantenimento io portoglio